Tamponi settimanali anche agli studenti è una delle proposte che vengono dai rappresentanti delle scuole superiori di Inocera Inferiore che preannunciano iniziative di protesta che porterebbero a disertare le lezioni, lasciando gli istituti vuoti da lunedì quando dovrebbero tornare tra i banchi. Una contestazione nata dalla disapprovazione dei ragazzi rispetto all'orario scolastico che li vedrebbe uscire da scuola dopo le 15, rendendo così ingestibile il loro tempo di studio e preparazione scolastica, ma che porta con sé tutte le preoccupazioni per il ritorno a scuola in presenza senza che sia sostanzialmente cambiato nulla ai fini di una maggiore sicurezza e prevenzione dai contagi Covid. A scuola sì ma non così è lo slogan coniato dal movimento degli studenti di Inocera. Soltanto chi vive la scuola dall'interno sostengono, sa a cosa si rischia di andare incontro e quali siano le conseguenze di un'apertura in queste condizioni. L'abbiamo testato già a settembre, dicono. Chiedono di essere ascoltati da chi rappresenta le istituzioni, siamo esseri umani anche noi e non possiamo essere trattati così, dicono amareggiati e delusi dagli atteggiamenti tenuti da amministratori comunali e dirigenti scolastici nell'incontro di martedì pomeriggio. Il rientro in aula si sta trasformando in un gioco politico e noi studenti siamo infastiditi e offesi per questo. Noi consideriamo che il governo, il prefetto, chi di competenza ha messo i tamponi e i test per professori e collaboratori scolastici che prima di tutto non sono obbligatori e seconda cosa questi test o magari tamponi dovrebbero inserirli obbligatoriamente anche per gli alunni ogni settimana poiché oltre i professori siamo noi alunni che siamo più esposti al problema coronavirus. Io credo che quindi la riapertura delle scuole non sia possibile perché in passato, quando le hanno chiuse, i dati erano meno preoccupanti di ora. Infatti ora i contagi sono alti. Il nostro primo obiettivo per questo sciopero che abbiamo organizzato è proprio quello di ritornare in didattica in presenza, ma non con le direttive che hanno approvato nell'ultimo DPCM a livello provinciale più che regionale partendo dagli orari che sono proprio poco consoni ai ragazzi soprattutto di quarto e quinto superiore che hanno anche altre esigenze, il pomeriggio come preparazione di test universitari, preparazione dell'esame di Stato e comunque bisogni fisici come magari recarsi in palestra. Poi noi consideriamo che tempo fa all'inizio della didattica a distanza ci hanno detto che era molto efficace e fortunatamente abbiamo preso una continuità e ci troviamo abbastanza bene e consideriamo che questa didattica a distanza sia molto più efficace rispetto ad una didattica a distanza integrata perché questa è un'esperienza che abbiamo già provato a inizio anno che purtroppo gli alunni che rimarranno a casa o il 50 o l'altra parte rimanente non apprendono certamente come gli alunni che sono a scuola. Noi chiediamo quindi al prefetto e alle autorità di competenze di prolungare la didattica a distanza per verificare i contagi se calano e quindi di ritornare in presenza. Il nostro intento è quello di lasciare dal primo febbraio, vogliamo rimanere tutti quanti uniti, l'intento è quello di lasciare gli istituti voti sia per chi dovrà entrare in presenza e per chi invece farà parte del gruppo che dovrà stare a casa ovvero in DAD. È stata già testata per quelle poche settimane di settembre ed ottobre, non siamo cavie da laboratorio e come stavo dicendo è stata testata questo ritorno in presenza su di noi, però è inevitabile il fatto che un professore debba spiegare il giorno per il gruppo in presenza e poi il giorno dopo per il gruppo che il giorno prima stava a casa. La DAD ci sembra l'opzione migliore soprattutto per garantire continuità ai nostri programmi scolastici. Il nostro intento non è non tornare a scuola per non fare lezioni perché le lezioni non sono mai state ferme. C'era stato detto che la DAD funzionava e adesso risulta inefficace, ma bisogna secondo me calcolare il fatto che la DAD possa dare sicurezza per la salute degli studenti. Un'altra questione che può creare disagi agli alunni è il fatto degli orari. Gli orari stabiliti dal prefetto non vanno a favore soprattutto dei pendolari e non ci dimentichiamo che i ragazzi prima di essere alunni e studenti sono esseri umani per cui adottare queste fasce orari diventa un disagio per i ragazzi. Chiediamo al prefetto, al sindaco e a tutte le autorità competenti di poter organizzare un ritorno con orari umani perché questi a nostro avviso non sono per niente umani. Continuiamo però ad essere fiduciosi, a credere nei nostri dirigenti e nel corpo docente dei nostri istituti e speriamo si faranno portavoci delle nostre esigenze. E concludono così la nota di ieri affidata agli organi di informazione per far comprendere le loro ragioni, gli studenti, ragioni che non sono pretesti o capricci ma un modo di elaborare una situazione che le ha già molto provati. Si comprende invece come vogliono anche loro essere protagonisti della loro vita che dal marzo scorso è una vita sospesa. Sono combattuti da un lato dal rivedere i compagni coetani, tornare a socializzare e dall'altra per le preoccupazioni per il ritorno in quelle aule che potrebbero essere veicolo di contagi e di trasmissione di contagi. Quale sia la strada giusta nessuno lo sa. Si avverte però quanto sia importante lasciarli liberi di pensare, di confrontarsi, di crescere nelle difficoltà in un momento storico senza precedenti. Di certo a nessuno fa piacere rimanere giornate intere e chiusi in gabbia, senza amici, senza poter guardare in faccia compagni, docenti, senza avere un contatto umano e sociale. Ma potrebbe essere terapeutico metterli a pensare, a riflettere sui loro doveri e sui loro diritti. Anche le battaglie per cause, che siano giuste o meno, aiutano a superare momenti bui e a riprendersi in mano la vita. Grazie a tutti.